Buonasera, buon pomeriggio o buongiorno a tutti, sono Alessandra di Liolipedema Italia. Vorrei ringraziare sentitamente tutti per partecipare al primo di una serie di eventi organizzati dalle associazioni dei pazienti affatti dall'Ipedema, congiuntamente sull'Ipedema. Stiamo mandando in streaming il webinar live su YouTube e sul nostro canale Lio, in italiano, con la traduzione simultanea in italiano. Il tempo è breve e i nostri ospiti sono numerosissimi. Ora sono orgogliosa di presentarvi la nostra presidente, Chair Valeria Giordanio, che è il cuore e la mente dietro tutto questo evento. Quindi grazie, grazie Valeria. Bene, grazie davvero a tutti quanti voi per essere qui quest'oggi. È molto difficile per me tenere questa presentazione, sono davvero emozionata in questo momento. Quindi se sembra che sto leggendo è perché effettivamente sto leggendo. Quindi scusatemi. Grazie, vorrei ringraziare davvero tante persone, sarebbero tantissime persone da ringraziare per questo evento, da non poterlo fare a livello personale, ma sapete chiaramente a chi mi riferisco. Grazie a tutti. Questo webinar è un primo step nel spiegare che il dibattito medico sull'epedema è tutt'altro che un consenso universale attualmente è che è necessaria più ricerca e medicina di tipo evidence-based per prenderci appropriatamente cura dei nostri pazienti. Prossima slide. Quindi l'obiettivo di questo evento consiste nel discutere le problematiche afferenti al consenso con diverse voci che provengono da gruppi in tutto il mondo che hanno espresso le loro opinioni sul nuovo consenso internazionale sull'epedema pubblicato nel JWC a novembre del 2020 con il titolo L'epedema, a paradigm shift and consensus e sulle scelte di quello che è stato precedentemente pubblicato in Myths and Facts Series. Prossima slide. Il dottor Sandro Michelini, presidente del nostro comitato scientifico locale, e la dottoressa Karen Herbst, membro del nostro board esterno di esperti, e sperveranno il loro punto di vista, condivideranno le loro conoscenze sull'epedema. Prossima slide. Successivamente avremo uno spazio dedicato a tutte le associazioni dei pazienti che fanno un lavoro strepitoso grazie a tutti e le società di ricerca che hanno qualcosa da dire sul consensus. Non voglio rivelarvi prima i loro contenuti. Avranno i loro momenti da condividere con voi sulle loro opinioni in questo ambito. Prossima slide. Successivamente avrà luogo una discussione multidisciplinare che coinvolgerà gli esperti di l'epedema su scala globale, compreso alcuni membri dello Standard of Care Group statunitense. Diversi relatori saranno liberi di esprimere le loro opinioni sull'epedema. Tratteranno diversi argomenti che riguardano il consenso sulla chirurgia per l'epedema. L'epedema ed edema, il dolore e l'epedema, che sembra essere un scoglio nella diagnosi, come migliorare la qualità di vita, come si vive affetti da l'epedema. Quindi ci sono tantissimi aspetti da esplorare e da dire su tutto questo. Ma ora vorrei iniziare con alcune considerazioni etimologiche. Dato che io sono una ricercatrice a livello linguistico, quindi adoro le parole, questo è il mio compito. Quindi il termine consensus esiste dal 1894. È un accordo, un consenso generale di diverse parti, diverse parti, in uno scopo preciso, che è esattamente quello che noi stiamo cercando di stimolare e promuovere. Inoltre, ci aspettiamo che qualcuno degli esperti invitati quest'oggi, o nell'evento a seguire, perché questo è soltanto il primo di una serie di eventi che verranno organizzati, quindi aspico che chiariranno le differenze tra consenso medico, linee guida e position papers. I position papers sono qualche cosa, questi tre di eventi, che a volte vengono impiegati in maniera molto interscambiabile. Tuttavia, lo scopo di questi documenti e la validità del loro orientamento, basato sull'evidenza, non hanno la stessa connotazione. C'è un altro termine che vorrei sottolineare con voi, il termine mito. Vedete la definizione etimologica nella mia slide, nella quale il termine mito sono storie su esseri divini, che poi sono stati narrati da esseri umani o sacerdoti. Non stiamo parlando di divinità, eroi, giganti. Ci stiamo focalizzando completamente sugli esseri umani, le persone che sono colpite da una patologia complessa e che hanno bisogno di risposte a coloro che sono coinvolti nel loro ruolo di prendersi cura di loro. Parlando di miti, significa coinvolgere un senso generale di storie non vere, immaginare leggende e personaggi fittizi. Tuttavia, i pazienti dell'ipedema del primo stadio non sono fittizi, sono veri. I pazienti affetti da obesità che hanno problematica nel perdere il tessuto adiposo nelle aree coinvolte, nonostante la chirurgia bariatrica e l'esercizio fisico sono reali, sono concreti, sono persone vere. Vedete in questa immagine una delle nostre lipid lady, dopo la chirurgia bariatrica, che ha perso 70 kg, dopo la gassetonia verticale, la sleep gastrectomy, il suo corpo ancora appare così e lei ha un forte dolore, il suo dolore è vero ed è tremendo, non è soltanto nella sua mente, è soltanto un punto cruciale che dobbiamo dibattere, ma ce ne sono tanti altri. Queste immagini sono fornite da nostri clinici italiani, ma davvero non vedo l'ora di ascoltare il dottor Bruno, che descriverà le caratteristiche macroscopiche del ipedema addominale, confrontandolo ai precedenti obesi, ai pazienti ex obesi, e lui, dal momento che il leading author del consenso, diceva che il ipedema dell'addome non è vero, non è reale, e allora non lo vogliamo chiamare il ipedema, ma esiste un problema, un disturbo associato al tessuto adiposo a livello addominale, c'è dolore a livello addominale, e allora che cos'è che non va? La immagine ecografica che è stata fornita, potessi mettere la domanda, magari rappresenta un altro strumento importante per portare la possibilità di diversificare, differenziare, distinguere la diagnosi tra il ipedema, magari la libera ipertrofia. Ci sono tanti gruppi in Italia che stanno approfondendo un effort congiunto per fornire la giusta assistenza a pazienti, il dottor Aloisi, il gruppi del dottor Mantovani, che sono presenti in collegamento oggi, il nostro comitato scientifico, che è ben rappresentato oggi, sta approfondendo il massimo impegno nello stilare delle possibili linee guida italiane sull'ipedema. In questo slide vedete che le guida e i documenti su consenso nella gestione dell'ipedema nei diversi stati sono già stati pubblicati in diverse sedi, comprese le linee guida chirurgiche del congresso austriaco del 2017. Il dottor Anorato è stato coinvolto. La Canada Review sull'ipedema surgery, vorrei davvero, vedo l'ora di ascoltare il punto di vista canadese dal momento che hanno appena pubblicato il nuovo International Consensus sull'ipedema. Volevo darvi alcune informazioni di base su quello che ascolterete quest'oggi. e quindi stavamo dicendo che il Journal of Care ha pubblicato questo International Consensus sull'ipedema, supportato da alcuni autori con questo titolo, Paradigm Shift and Consensus, vedete nella slide degli autori di questo documento. I leading authors, gli autori principali, hanno anche pubblicato una serie, la serie L'ipedema Mips and Chains, che punta alcuni elementi specifici dell'ipedema che sono stati considerati e denominati i meti che riguardano l'ipedema e che riguardano tutta la prassi medica e l'hanno connotata per decenni. Secondo il punto di vista dell'autore, queste false notizie sull'ipedema hanno creato una discrepanza tra l'esperienza dei medici e la prospettiva dei pazienti, dei gruppi di autoaiuto che siamo noi, che si presuppone che siano basate su informazioni sbagliate, dogmi, generati proprio dalla professione medica. Quindi questi autori sollecitano la comunità medica per introdurre un cambiamento di paradigma nel trattamento dell'ipedema. Questi meti, Miss and Chains, la parte 5 è stata pubblicata in metodologia all'inizio dell'anno e include un riassunto del Contensus dell'European Lipedema Forum, che era il risultato dei due forum dell'Ipedema Forum di Hamburgo nel 2018 e 2019, quindi ci sono alcuni anche rappresentanti, in questa occasione esperti che provengono da diversi stati, che sono stati appunto invitati a discutere l'ipedema con l'obiettivo di definire un consenso. Anche l'IPGMI UK era presente, era l'unica associazione pazienti coinvolta e probabilmente hanno qualcosa da dire successivamente su questo punto. Contemporaneamente un team multidisciplinare ha sviluppato gli UNS standard of care for l'ipedema, abbiamo dei rappresentanti, la dottoressa Hermsten è una rappresentante, abbiamo il loro supporto, loro hanno il supporto della National Institute of Health e altri, quindi si è tenuto un meeting in iniziale d'aprile 2019 e questo lavoro è in corso, quindi il programma che hanno è di concordare su una descrizione dell'ipedema, definire uno standard di cura per gli Stati Uniti, sviluppare e pubblicare delle linee guida di prassi cliniche affinché siano disponibili per lo staff dei medici, dei clinici, delle famiglie, dei pazienti affinché possano gestire l'ipedema in un modo anche economicamente responsabile, quindi la pubblicazione di questo standard of care ci sarà appunto la pubblicazione in un peer-reviewed medical journal, quindi dopo che è stato pubblicato questo documento molti pensavano che il consenso europeo era stato pubblicato, ma in realtà non lo era, quindi ad esempio sul sito web dell'Adrian Association si annunciava che il consenso europeo era stato pubblicato, ma in realtà non era un consenso europeo, perché c'è proprio un disclaimer su Myth and Fact numero 5 che il consenso europeo non era stato pubblicato e che doveva essere pubblicato in una successiva pubblicazione. Una lettera all'editore di Freibology su Myth and Fact è stata presentata dallo standard of care del gruppo americano e successivamente risposta a questa lettera dai principali autori delle Myth and Fact ha seguito con la conclusione che cito «I soldi fanno girare il mondo, questo vale anche per i pazienti che sono stati coinvolti nella ricerca di controllo sull'Ipedema negli Stati Uniti». «Money makes the world go round». Beh, penso che la Fondazione Lipedema abbia qualcosa da dire su questo, forse no, comunque sono qui oggi. Ora vorrei concludere con questa slide, adoro questa slide, è in italiano, quindi forse è l'unica cosa in italiano che vedrete nel nostro evento quest'oggi, gli interpreti possono direttamente. E la lascio in modo che possa essere letta molto attentamente affinché si possa riflettere sul suo contenuto. E ora vorrei spendere alcune parole, tre parole non di più, per ringraziare sentitamente tutte le persone che sono qui quest'oggi. Un speciale ringraziamento a Manuela, di Alessandra, Libre Gmail UK, Cage, Leo, di Padre Manitalia, il Consiglio, perché i miei e i miei staff sono davvero incredibili, devo davvero ringraziarle, soprattutto Annalisa, Annalisa Bianchi, vicepresidente, che è davvero il cuore della nostra associazione. Grazie, Annalisa, per essere come sei. Grazie. Alessandra, a te la parola. Beh, sicuramente Valeria ha già sollevato alcuni punti. Per ribilogare il primo consenso dovrà essere finalizzato da un alto numero di attori, che coinvolgerà tutta una serie di attori e stakeholder, professionisti del campo medico, pazienti, società di ricerca che appartengono a diversi ambiti di know-how e dovrà essere più trasparente sui metodi impiegati per raggiungere questo accordo o per dichiarare il disaccordo interno. Deve essere definito nel tempo. Abbiamo bisogno di definire una data di revisione, perché sappiamo che lo stato dell'arte, della ricerca e del trattamento è in continua evoluzione ed è molto importante. Per definire un consenso, evidentemente c'è un'influenza su un'audience più ampia, ecco perché il consenso deve essere pubblicato con un peer-reviewed journal e deve avere un accesso pubblico, un open access, in modo che si possano vedere i risultati a fine di ottimizzarne i vantaggi. La mia preoccupazione principale, quando ho visto per la prima volta questo documento del consenso, il consenso è questo document che ha chiaramente un'influenza sulle politiche sanitarie, perché quando i politici chiamati a decidere chi ha diritto di ricevere assistenza e cure mediche, quanto costerà tutto questo se deve essere coperto da un'assicurazione o dai soldi dei contribuenti, ricercano l'evidenza, la letteratura disponibile, le opinioni degli esperti, le linee di guida, i position paper, i consenso è già disponibile come riferimento. Nel caso dell'ipedema sicuramente ci sono molte ipotesi, ma mancano degli studi innovativi e sicuramente creano delle criticità su quale dovrebbe essere il giusto protocollo del trattamento e della gestione del ipedema. Sicuramente mantenere lo status quo non è possibile, sicuramente c'è un'emergenza di una popolazione di pazienti che hanno diverse esigenze e ora che c'è questo documento di consenso, che ha sicuramente il nome, il label di consenso, ma non un vero significato di che cosa il consenso dovrebbe significare, penso che queste condizioni possono generare uno standard di cura che non è adeguato per la comunità dei pazienti e questa è la mia preoccupazione principale, l'inadeguatezza. Quindi nelle nostre associazioni e con le altre associazioni discuteremo su cosa fare su questo primo consenso. è forse un'opportunità mancata, ci sono dei punti che possono essere mantenuti, modificati o migliorati? Sicuramente le associazioni tratteranno questi argomenti controversi nella seconda parte dell'evento, per il momento possiamo sottolineare che se c'è qualcosa di positivo che è emerso e che dimostra che c'è bisogno di più dedizione e ricerca per definire uno standard of care per l'Ipedema, c'è bisogno di un effort congiunto senza precedenza delle charity, delle onlus e delle società di ricerca per promuovere un maggiore supporto e più rispetto per coloro che soffrono dell'Ipedema, per migliorare la qualità delle cure, il riconoscimento del ruolo, perché le associazioni devono sentire di avere il diritto di supportare, finanziare questi progetti che possono andare a vantaggio della comunità di Ipedema. La nostra mission noi sicuramente rispettiamo l'esperienza e il know-how della comunità medica, ma chiediamo una maggiore partecipazione. Per ora vi ringraziamo e lascio la parola alla dottore Michelini e la dottoressa Hearns. Buonasera a tutti, vorrei ringraziare Valeria Giordano, presidente della LIO, l'associazione italiana, per questa opportunità che mi è stata conferita per parlarvi, introdurvi alcune brevi considerazioni per quanto concerne la patologia dell'Ipedema, che è una malattia. È noto che l'Ipedema consiste in un accumulo più o meno simmetrico di un tessuto adiposo sottocutaneo cronicamente progressivo accompagnato da edema ortostatico che colpisce quasi esclusivamente il sesso femminile. Un primo concetto importante da sottolineare è che l'Ipedema e l'obesità sono due malattie diverse, sono due patologie diverse. La presenza contemporanea nello stesso soggetto di due aspetti clinici non è automatica, assolutamente non è automatica. Pertanto il paziente affetto dall'Ipedema non può essere automaticamente candidato alla chirurgia bariatrica. Oggi possiamo affermare che l'Ipedema ha un'origine genetica testimoniata anche dalla presenza della patologia in più membri della stessa famiglia, come potete vedere in questa slide. È possibile ipotizzare anche in considerazione dell'incidenza esclusiva nel sesso femminile un'azione ormonale ancora da chiarire. Un'altra importante considerazione è che una dieta ipocalorica e l'esercizio fisico sono inefficaci nell'Ipedema, a differenza dell'obesità. Allo studio di un albero genealogico di questa famiglia, che vedete nella slide, è possibile evidenziare che la mutazione genetica può essere trasmessa dall'uomo. Vedete questa indicazione specifica? L'uomo non sembra mai, non contrae questa patologia e può essere un portatore sano di questa affezione. Si può notare che studi genetici che si collocano ancora in una fase pressoché iniziale hanno recentemente portato alla scoperta di un gene AKR1C1 responsabile della patologia nelle femmine di due generazioni diverse della stessa famiglia. Siamo sicuri che, così come è avvenuto in Fedema, verranno scoperti altri geni responsabili della malattia nel prossimo futuro. Un altro esempio di questo albero genetico che coinvolge più donne diverse generazioni della stessa famiglia. Oggi mancano ancora dati epidemiologici, il problema è anche determinato da una generale mancanza di conoscenza sulla malattia e dal suo conseguente riconoscimento molto tardivo. La localizzazione dell'accomodo patologico di atipe può essere variabile, la linea generale sempre simmetrica tra i due lati in relazione alle aree anatomiche interessate, come potete vedere in questa slide. Le parti biodistali degli arti, sia inferiori che superiori, sono sempre caratterizzate dal fatto che sono affinate, soprattutto nelle prime fasi cliniche. con questo segno del polsino presente a livello dei polsi e delle caviglie. Sono in corso studi istologici, in collaborazione con il gruppo del professor Cinti di anatomia patologica dell'Università di Ancona, finalizzati a comprendere meglio il comportamento di queste cellule che noi definiamo anarchiche, in quanto non rispondono ai comuni pattern, ai comuni meccanismi di autoregolazione del tessuto adiposo. L'infedema può subire e sviluppare complicanze, può presentare comorbidità come obesità generalizzata, l'infedema, insufficienza venosa degli arti inferiori, gonartrosi, per l'impatto meccanico e disturbi mentali, soprattutto afferibili a depressione e frustrazione. Questa è una sediazione che effettivamente viene attualmente utilizzata e che fondamentalmente riconosce quattro stadi clinici. Un altro concetto importante è che l'infedema non è l'infedema e non è causata da un infedema. Questo è un assunto molto importante. Nelle prime fasi la linfocintigrafia mostra un quadro di normale sviluppo del sistema linfatico che persiste anche nelle fasi avanzate, nelle quali il linfonodo si attesta o può apparire un reflusso dermico, espressioni di un reflusso estrinseco, ostruito e non di un sviluppo intrinseco alterato a livello del sistema linfatico che è il normale sviluppo. Prima di passare la parola alla professoressa Hermster, per ascoltare la sua incomiabile esperienza e materia, vorrei concludere affermando che l'ipedema è una malattia genetica, non determinata principalmente dalle abitudini alimentari o dallo stile o legione di vita dei pazienti, ma da una predisposizione costituzionale di natura familiare che è indipendente dai comportamenti dei pazienti affetti dalla patologia e costringe questi pazienti in secondo luogo a dei sacrifici volti a ridurre gli effetti epigenetici della predisposizione genetica. Tutti aspetti importanti che sicuramente meritano un'ulteriore indagine. Grazie per la vostra attenzione e potremo poi aprire un dibattito su queste tematiche, su queste brevi considerazioni. Grazie davvero per la splendida presentazione. Allora, nel frattempo ringrazio tutti voi, ci sono davvero tante persone che hanno voluto collegarsi e partecipare quest'oggi, quindi vorrei davvero riassicurarvi tutti che questo sarà davvero il primissimo passo di tutta una serie di eventi e avremo tutta la possibilità di unirci e dibattere, quindi inviateci un'email e vi inviteremo anche come speaker o panelist nel prossimo evento a seconda di cosa preferite. Davvero un invito che stendo a tutti gli esperti, i medici, i clinici che operano nel mondo dell'ipedema e le associazioni dei pazienti. Vedo che la dottoressa Herbst è collegata. Bene. Buonasera. Sì, in Italia è sera, massimo internazionale, vediamo. Potrebbe esserci un fuso orario diverso. Potrebbe essere mattina. Grazie tantissimo per questo invito Valeria, grazie a lei, Alessandra e al dottor Michelini e tutto quello che avete fatto, avete lavorato così tante ore, davvero un evento molto entusiasmante, congratulazioni e quindi volevo salutare anche il dottor Cinti, che è proprio un mentore per me da tanto tempo. Quindi vi parlerò oggi del consensus document sperando di direttamente di aprire una discussione su questo. Il general wound care, questo documento che vi è già stato presentato, a mio avviso classifica l'ipedema come obesità. Si concentra sull'obesità in particolare e quindi secondo me prende in considerazione soltanto i punti di vista di alcuni autori. Questa è una lista dei punti discutibili che analizzerò, ovviamente il documento era molto lungo, quindi purtroppo non andremo nel dettaglio di ogni punto. Comunque, il primo mito che è stato discusso è che non c'è edema nell'ipedema, in realtà gli autori utilizzano una definizione scorretta di edema, la loro definizione è accumulo di fluido che manifesta il classico aspetto fuori del tessuto molle ad esame clinico, però non forniscono riferimenti di questa definizione, gli autori ignorano l'edema non pitting e poi la definizione corretta dell'edema è fluido interstiziale in eccesso e lo spazio interstiziale è l'aria e lo spazio tra le cellule, quindi questo è sbagliato. Questa è una bella slide di Emily Eicher che mostra a destra una ecografia di linfedema e potete vedere la pelle, il tessuto adiposo e potete vedere il lipedema e quindi potete vedere il fluido nel tessuto di linfedema che dà un aspetto anidodape, non vediamo questo nell'ecografia nel tessuto con lipedema. Quindi questo è un studio recente, una pubblicazione recente e quindi sono state considerate donne di stadio 1-2 e stadio 3, donne con stadio 3 di lipedema e quindi si è trovato fluido, libero tramite l'inforisonanza magnetica nel tessuto adiposo e di conseguenza queste sono classificate come lipolinfedema, però se vedete anche nelle donne, le donne di fase 1 e fase 2, due delle 11 pazienti erano nello stadio 1 e 2, avevano fluido libero nello spazio interstiziale e quindi le fasi iniziali sembrano progredire verso gli stadi maggiori, verso i stadi avanzati e quindi questo lo potete vedere tramite l'inforisonanza magnetica e questo fluido non si vedeva tramite ecografia. Quindi nello spazio interstiziale ci sono delle molecole proteoglicane che hanno una spina dorsale proteica a cui si collegano i glicon samminoglicani gag che sono molto complessi, sono delle molecole di zucchero molto complesse che agiscono come delle spugne e che assorbono acqua diventando gel e quindi spesso si accumula il fluido nello spazio interstiziale e quando si accumula fluido in eccesso, in obesità, l'ipedema o l'infedema, i proteoglicani gag aumentano anch'essi e questa è fisiologia normale. In questa immagine dello spazio interstiziale potete vedere cellule adipose, nello spazio interstiziale ci sono fibre come collagene, fibronettina e elastina a cui le cellule fibroglasti si collegano, si, si legano e all'interno di queste fibre ci sono i proteoglicani che legano sodio, Na+, oppure acqua, vedete queste goccioline blu, nel lipedema abbiamo maggiore acqua, maggiore acqua libera nel lipedema, abbiamo maggiore acqua e dell'acqua libera. Quindi qual è la prova che ci sia l'edema nell'ipedema? Abbiamo già visto qualcosa dal gruppo delle tre donne che erano donne italiane, mi è stato anche dimostrato che la questa cellulare è più alta nel tessuto adipose delle donne con l'ipedema, il contenuto di sodio è maggiore nella pelle e nel tessuto di donne con l'ipedema, i piccoli vasi sono dilatati e infiammati nel tessuto con l'ipedema che può portare a fuoriuscita di fluido nel tessuto, lo spazio interstiziale è molto più ampio nel grasso dell'ipedema e ci sono anomalie di trasporto nel sistema linfatico delle donne in tutte le fasi dell'ipedema. Questa è una immagine di un piccolo capillare, quindi piccoli vasi nel corpo circondate da cellule adipose, qui potete vedere che intorno a questo capillare c'è una fuoriuscita, ci sono milioni e milioni di capillari nel tessuto adipose, ognuno di questi fa un fuoriuscire del fluido e quindi questo porta maggiore fluido nel sistema linfatico e nello spazio interstiziale. Questa immagina ci mostra che la parete capillare è più spessa e quando è più spessa allora ci sono danni alle cellule endoteliali e quindi i home gag possono entrare nei vasi che proteggono dalla fuoriuscita del fluido, nella situazione opposta il fluido fuoriesce e infine poi vediamo una piccola vena che si chiama venula che è dilatata e questa venula contribuisce a far fuoriuscire il liquido nello spazio interstiziale. qui vediamo quindi i vasi non impermeabili, questa è una recente pubblicazione della Lipedema Foundation, questa è la cute di una donna con Lipedema, potete vedere i vasi con vari branch ramificati e poi c'è uno spazio tra i vasi mostrati dalla freccia bianca, vediamo che c'è una fuoriuscita di liquido, vediamo ci sono tante cellule infiammatorie attorno a questi vasi e potete vedere che le cellule endoteliali sono rotonde, quando le cellule endoteliali sono rotonde forniscono spazio a fuoriuscire di fluido all'interno del tessuto. Quindi in sintesi nella Lipedema sappiamo che abbiamo fluido collegato ai gag, ma abbiamo anche del fluido libero e nel Lipolinfedema abbiamo fluido legato ai gag e vediamo che c'è una progressione verso il linfedema e contro tutto ciò, dobbiamo lottare. Un altro mito nel documento di consenso che Lipedema fa ingrassare i pazienti, mi scuso per queste due frasi che secondo me sono inappropriate quando parliamo di pazienti e sono misogene, le donne credono che Lipedema sia responsabile della loro storia di aumento di peso, dicono gli autori ed è richiede tanto tempo e lavoro, convincere i pazienti che sono mal informati, che ci sono altri fattori che portano ad un aumento del peso e sicuramente non è dovuto a Lipedema, quindi gli autori pensano che la maggior parte delle donne con Lipedema siano obese con qualche Lipedema sottostante, ma non considerare la possibilità che il tessuto con Lipedema può aumentare con il tempo senza prova non è scientifico, abbiamo bisogno di più dati. Questo è un esempio di una donna nel documento di consenso che ha avuto chirurgia bariatria, quindi a sinistra vediamo la donna prima della chirurgia, prima dell'intervento e poi a destra invece dopo. Secondo gli autori questa donna Lipedema e questo è stato ridotto dalla chirurgia bariatrica, però io e dei miei colleghi nella standard of care committee negli Stati Uniti pensiamo che questa donna ha obesità centrale, non ha la forma solita di gambe, infatti ha iperdestrofia delle gambe, degli arti che è normale quando c'è una malattia metabolica, quindi penso che questa donna abbia obesità con malattia metabolica e il dottor il time ride ha anche detto che possiamo vedere le vene varicose sulle gambe, ha anche una distribuzione, vediamo anche che ha una pelle, una cute più scura, quindi questa è una donna che ha obesità e malattia venosa cronica, non pensiamo che abbia Lipedema, se è Lipedema si tratta di una quantità molto limitata di Lipedema, quindi questo è sbagliato. Questa è una donna, una mia paziente, anche lei aveva obesità e Lipedema, quindi vediamo in pantaloncini blu prima dell'intervento bariatrico e poi invece in celeste dopo, vedete che ha perso peso sulle braccia, anche sull'addome, sicuramente è migliorata dopo l'intervento chirurgico, quindi penso che l'intervento sicuramente aiuti la componente obesità dell'Ipedema, aiuti anche la componente dell'Ipedema, però sicuramente non porta via tutto il tessuto con l'Ipedema. Un altro mito nel documento di consenso è che l'Ipedema sia una malattia progressiva e si utilizzano dei dati del dottor Forner Codero che mostrano che in uno studio due terzi dei pazienti erano stabili e un terzo invece ha avuto una progressione della malattia e questo era dovuto ad un aumento di peso e mettono in discussione nel fatto che la circonferenza delle gambe aumentasse per l'esperienza dei pazienti sull'aumento di peso e dicono che nel caso precedente, nel caso dell'obesità sarebbe l'aumento, l'aumento del peso corporeo che è progressivo e non in l'Ipedema, un aumento nella circonferenza delle gambe si aspetterebbe questo aumento come parte dell'aumento di peso. Tuttavia gli autori affermano anche che le donne con l'Ipedema abbiano gambe pesanti severe, se si aumenta il tessuto con l'Ipedema e il tessuto con l'Ipedema è pesante, come è possibile che l'aumento di tessuto l'Ipedema non risulti in aumento di peso? Finché non sappiamo come differenziare l'obesità dall'Ipedema e l'obesità dall'Ipedema, non possiamo sicuramente rispondere a questa domanda. Inoltre gli autori ignorano i dati, ignorano dati pubblicati che mostrano differenze tra il tessuto con l'Ipedema e il tessuto senza l'Ipedema, ad esempio le cellule immunitarie sono diverse nel tessuto con l'Ipedema rispetto al tessuto con l'Ipedema oppure obesità, quindi questo riguarda il numero e i tipi dei macrofagi, poi ci sono più, quindi la misura dei adipociti è maggiore, l'espressione igienica è diversa sicuramente nel tessuto con l'Ipedema e il fattore, anche la misura degli adipociti è diversa, poi il PF4, un marchio dei disturbi linfatici è maggiore negli stadi dell'Ipedema indipendentemente dell'obesità ed è stato visto comunque più alto in tutti gli stadi, indipendentemente dalla presenza di obesità oppure no. Un altro mito che è stato proposto da questo documento di consenso è che l'Ipedema causi problemi mentali, secondo loro l'Ipedema non causi problemi mentali, i datori fanno riferimento allo sviluppo dei disturbi mentali che hanno preceduto allo sviluppo del dolore associato all'Ipedema, ma gli autori non discutono disturbi mentali che risultano dopo l'inizio, lo sviluppo iniziale dell'Ipedema, quindi probabilmente nell'età della pobertà, secondo gli autori non credono che l'Ipedema si possa sviluppare durante la pobertà, gli autori non fanno riferimento anche ai problemi del sonno, tra cui l'apnea del sonno che può aumentare la sensibilità e la consapevolezza al dolore. Poi questo è l'ultimo mito che gli autori in pratica non pensano che la liposizione sia efficace per l'Ipedema, tuttavia ci sono molti studi che mostrano un miglioramento nei sintomi dell'Ipedema e della qualità della vita, 12 anni dopo la liposizione, ma gli autori della JW International Consensus affermano che gli studi sulla liposizione sono retrospettivi e su un unico centro, tuttavia questi studi sulla liposizione esaminano la qualità di vita, il dolore e altre misure prima e dopo la liposizione, quindi non sono retrospettivi e sono stati ripetuti in diversi centri. Quindi, in conclusione, il JW International Consensus Document è pieno di opinioni e menzogne che non sono sostanziate da scienze. Gli autori non capiscono la definizione di edema e ignorano dati recenti e la patofisiologia conosciuta da anni. Invece di aumentare le divisioni tra i paesi, noi cerchiamo di creare un ambiente di solidarietà per migliorare la vita delle donne che soffrono di l'Ipedema e dobbiamo costruire un consenso tutti insieme e tenerci aperti alla verità. Vi ringrazio. Ora vorrei invitare il Comitato statunitense dello Standard of Care Committee. Quindi innanzitutto chiedo a Tom Wright una domanda. Tom, se ci sei, il tessuto dell'Ipedema è resistente alla perdita per dieta? Allora, questo è uno studio della Washington University, abbiamo uno studio sulla perdita di peso e per l'ora del metodo dopo. Comunque, i soggetti con l'Ipedema hanno subito una perdita di peso del 10% e non ha avuto effetto sui sintomi dell'Ipedema, questa perdita di peso. Inoltre, vediamo, aspettate un secondo, quindi la perdita di peso, quindi non è stata troppo alta. Quindi se vediamo questo studio, come potete vedere, le donne, quindi il testing alla baseline includeva composizione corporea, quindi risonanza magnetica, poi radiografie, poi sensibilità all'insulina, biologia del tessuto adiposo, funzione immunitaria. Sono state seguite queste donne in genere diverse settimane in cui hanno perso molto peso e poi sono state riviste. Potete vedere qui questo è il risultato del DEXA, quindi la composizione corporea. Le donne con l'Ipedema avevano, quindi a sinistra, avevano una maggiore percentuale di grasso sulle gambe e hanno perso sicuramente peso nelle gambe, però la proporzione dell'adipe corporeo non è cambiata nonostante la perdita di peso e quindi abbiamo, un'ultima cosa, abbiamo anche analizzato la sensibilità mensulinica, delle misure molto sofisticate e comunque abbiamo visto un effetto metabolico molto diverso nella perdita di peso nei pazienti con l'Ipedema rispetto ai pazienti controllo che avevano obesità. Sono studi che mostrano come in realtà queste malattie siano due malattie molto diverse. Grazie, grazie mille Tom. Quindi questi dati dovrebbero essere pubblicati presto e rispondono sicuramente a molte domande sull'Ipedema e obesità non dall'Ipedema. Quindi Emily Eicher, a te chiedo quanto efficace è la gestione conservativa del trattamento per l'Ipedema. Salve a tutti, salve a tutti, grazie, è un onore per me partecipare a questo incontro fantastico. Allora con uno studio in ultrasound vediamo che quando facciamo un drenaggio manuale, quindi un massaggio seguito da trattamento a compressione, allora abbiamo raggiunto soltanto il 14% di riduzione misurata con ecografia nello stesso spazio misurato con ecografia. Quando combiniamo massaggio leggero con trattamento a pompa di compressione abbiamo raggiunto il 37,8% di riduzione. Ora quando applichiamo un massaggio al tessuto profondo, quindi un passaggio di 30 minuti per ciascuna gamba, quindi lo combiniamo con il trattamento a compressione arriviamo ad un 38% di riduzione, quindi il mio punto è che il massaggio leggero non è efficace come il massaggio profondo combinato con il trattamento a compressione. Grazie, grazie mille Emily, grazie mille. Dottor Mollis, lei ti chiedo, i pazienti con melipedema hanno problemi psicosociali che presentano barriere alla propria dieta? Che cosa possiamo fare per ridurre questi problemi? Beh, sicuramente ci sono diversi studi che dimostrano che non soltanto gli individui con melipedema soffrono di problemi psicosociali, ma è stato dimostrato nella letteratura che questi danni psicosociali hanno un impatto negativo sulla qualità della vita, ancora più, ancora maggiore rispetto ai danni fisici. Nel 2018 è stato fatto uno studio a livello 3 che ha dimostrato che una qualità di vita inferiore è predittiva di stress e soprattutto di depressione maggiore e altri autori nel 2018 hanno dimostrato in uno studio a livello 4 che le donne collipertano problemi psicosociali e sicuramente la flessibilità psicologica hanno un impatto sulla capacità di partecipare ad attività funzionali, quindi direi che la letteratura attuale considera la salute mentale un fattore chiave da considerare nella performance occupazionale e sfortunatamente lo studio a cui si è fatto riferimento nel documento di consenso del JWC ha indicato che i problemi di salute mentale erano presenti prima dell'Ipedema che lo stadio era stato fatto nello studio degli autori, questo indica il fatto che è necessario fare più ricerche a causa del tempo della presentazione questi fattori sociali e psicosociali, psicologici devono essere presi in considerazione. Grazie mille Molly, grazie mille. Ora, dottor Paula Donahue, vorrei chiedere a te, la debolezza muscolare è frequente nella popolazione con l'Ipedema e se è così come si può gestire questo problema? Quindi con la debolezza muscolare è un qualcosa che deve essere valutata soprattutto nei pazienti e vorrei sottolineare uno studio che è stato effettuato nel 2017 da ex-mix Danstra Hendrix che ha analizzato l'Ipedema rispetto all'obesità e hanno trovato che le persone con l'Ipedema, c'erano 22 persone in questo studio, quindi le persone con l'Ipedema avevano meno forza nei quadricipeti e quindi questo gruppo aveva maggiore forza rispetto a quella predetta e come clinici anche nell'Ipedema molti pazienti cui i muscoli sono più forti tendono ad avere peso più alto e quindi per molto tempo e quindi potrebbero portare molto peso ma il l'Ipedema porta anche ad una debolezza muscolare, non è soltanto un problema funzionale che riguarda quindi il movimento ma bisogna analizzare anche la debolezza del pavimento pelvico e quindi questo può essere correlato anche a problemi di incontinenza, grazie. Grazie mille Paola, grazie per aver parlato anche dei problemi del tessuto pelvico che è una parte poco studiata, che deve essere studiata. Linda Nkan, quindi vorrei chiedere a Linda Nkan, la sindrome lipalgia descrive bene l'Ipedema, questo è quello che propongono gli autori come nuova forma di l'Ipedema. Allora no, in realtà la risposta è no, il dolore è un criterio molto importante per la diagnosi di l'Ipedema ma non è un requisito assoluto per la diagnosi di l'Ipedema e dobbiamo sapere che il dolore dell'Ipedema è nocicettivo neuropatico oppure c'è sensibilizzazione centrale, c'è bisogno di più studi inoltre l'infiammazione e la fibrosi nei pazienti con l'Ipedema causa dolore, misure conservative, come MLD, compressione, lipectomia, nasuzione, quindi riducono l'infiammazione e il dolore, però comunque i pazienti hanno ancora l'Ipedema e quindi abbiamo bisogno di un nuovo nome per l'Ipedema che deve essere deciso da un vero consenso internazionale. Grazie mille per avermi qui con voi, è davvero un onore. Grazie Linda, sono d'accordo con te, altre persone siano d'accordo, bisognerebbe trovare un altro nome per l'Ipedema. Una domanda per l'Indy, se ci sei collegata, quindi il dottor Michelini ha menzionato la malattia venosa, quindi che cosa vedi quando si analizzano, si esaminano le vene delle donne con l'Ipedema? Il documento di consenso non menziona la malattia venosa e quindi i pazienti con l'Ipedema hanno malattia venosa e ho trovato che quando è presente dolore alle gambe la malattia venosa aumenta e il diametro venoso è più ampio nelle donne con l'Ipedema. Vediamo che quindi le vene sono più grandi e forse dobbiamo analizzare maggiormente la malattia venosa, anche l'ipertensione probabilmente svolge un ruolo in tutto ciò. una terapia decongestionante può aiutare le componenti micro e macro vascolari, sicuramente quindi bisogna considerare la malattia venosa. L'Indy è un blog esperto, ha notato che la malattia venosa non è stata affrontata nel documento di consenso in maniera adeguata. Molte donne con l'Ipedema in realtà hanno malattia venosa e c'è una malattia venosa micro vascolare e macro vascolare nelle donne con l'Ipedema e quindi non dovremmo trascurare la malattia venosa, dovremmo considerare anche questo aspetto nelle donne con l'Ipedema. Grazie. Grazie mille per la presentazione, grazie mille. Quindi ora è il momento di presentare un nostro amico dalle altre associazioni. Bene, quindi presentiamole Sherry, Kate, Manuela e Felicity delle altre associazioni se possono unirsi a noi. Salve, grazie tantissimo per essere qui. Sherry è la chair di L'Ipedema OK è stata l'unica associazione dei pazienti coinvolta nell'incontro di Hamburgo di incontri sulle L'Ipedema, quindi presentiamo Kate Forster. Grazie Kate davvero per tutto. Allora, vi lascio da sole per così dire. Buonasera Felicity, grazie per essere qui. Buonasera Manuela dell'Inf and L'Ipedema Foundation, la fondatrice, quindi la sua presentazione. Tutte queste splendide donne rappresentano tutte le associazioni dei pazienti, le società di ricerca che sono state coinvolte nel sondaggio che super velocemente abbiamo raccolto tutti i risultati, quindi grazie davvero ragazzi per questo lavoro incredibile, quindi vi lascio con le vostre slide, le vostre considerazioni. Grazie, io ho delle domande anche da parte delle altre associazioni, quindi se sentite che tutto quello che noi diciamo adesso non rappresenta appieno tutte le vostre sensazioni rispetto al consensus, alzate la mano, non esitate di fare domande, stiamo davvero cercando, perché Kate ha fatto un lavoro incomiabile nel cercare di riassumere tutto quello che è stato dichiarato nel sondaggio, però se avete bisogno di dire altro, non vi preoccupate, alzate la mano e potete prendere la parola. Grazie, grazie, grazie ragazzi e buona bocca al lupo. Allora, penso di prendere la parola per prima. Buonasera a tutti, grazie davvero ai due organizzatori che mi hanno consentito di prendere la parola. Io vorrei fare la seguente affermazione della mia posizione che rappresenta l'IPGMI UK. L'IPGMI UK ha constatato, ha preso con tristezza che molte delle affermazioni e linguaggi utilizzate nell'International Consensus Document l'IPGMI e paradigm shifting and consensus è in contrasto con i nostri valori e obiettivi fondamentali. Riteniamo inoltre che il documento sia stato scritto senza prendere in considerazione sufficientemente l'effetto che ha sul morale dei pazienti e secondo l'opinione dell'IPGMI UK. Tutto questo mette a rischio la probabilità che i pazienti si facciano avanti per ricevere una diagnosi precoce. Personalmente inoltre trovo inaccettabile che il mio nome sia stato riportato nell'elenco degli autori quando non mi è stata offerta la possibilità di visionare o commentare il documento prima della sua pubblicazione. Quindi dovrei chiarire che ho chiesto che il mio nome venga cancellato dall'elenco degli autori. Sono onorata di aver preso parte nell'European Epidemia Forum e di essere stata presente alle dichiarazioni allegate ai risultati di quel gruppo, ma questi risultati sono stati estesi e ampliati per includere altri materiali scelti a pura discrezione degli autori principali, dei lead authors, molti dei quali sono inaccettabili per l'IPGMI UK. Grazie a tutti per essere qui oggi, è davvero un meeting meraviglioso quello che abbiamo organizzato, è davvero un onore per me avere la possibilità di ampliare questo dibattito con voi, grazie. Grazie Sherry. Come diceva Valeria, esprimo la massima gratitudine alla mia collega Manuela che ha fatto un lavoro stupendo nell'aiutarmi a arrivare alle prime considerazioni come associazione dei pazienti, quindi come diceva Valeria, noi stiamo spornando tutti a sollevare di ulteriori punti e anche tutti quanti noi possiamo esprimere un contributo sulla nostra opinione, non soltanto oggi, ma mano a mano che andiamo avanti, nel maturare una comprensione di quelle che sono davvero le migliori raccomandazioni da formulare per le nostre associazioni che rappresentano i pazienti di Pedema, quelle che vi dirò sono delle conclusioni che tutti quanti noi attualmente pensiamo. La prima è sicuramente che noi non abbiamo raggiunto un consenso universale di tutte le nostre opinioni e così la pensano anche molti speaker. Sicuramente abbiamo dei punti in comune e il più importante è che noi come associazioni e gruppi auspichiamo che avvenga ulteriore ricerca. Vogliamo vedere dei studi longitudinali, studi con un mix di popolazioni di pazienti, finché le conclusioni che vengano tratte e i consigli che vengono formulati come raccomandazioni nella gestione dell'ipedema rappresentino veramente, consentano alle comunità di pazienti di vivere bene e che non sia focalizzato su un sotto insieme di pazienti che probabilmente ricevono dei servizi attualmente in alcune cliniche, perché senza questa visione a tutto campo non saremo in grado di servire le esigenze delle persone che stiamo cercando di aiutare. Quindi quello che segue sono alcune delle nostre conclusioni. Il primo punto di accordo è l'entusiasmo rispetto all'idea del consenso come esperienza condivisa di ricerca. Abbiamo riscontrato come associazioni che si è trattato in un consenso eurocentrico, nonostante il titolo di internazionale, che rispecchia soltanto un sotto insieme di clinici europei che non prendono in considerazione la diversità della popolazione dei pazienti e mi soffermerò maggiormente su questo. È la mancanza di un approccio incentrato sul paziente, la vera voce della persona che vive affetta dalle pende, ma questo per noi è stato un punto molto negativo del documento, perché quando noi siamo coinvolti in tutta una serie di consulti o osserviamo le guide pubblicate delle istituzioni in vari stati, vediamo che c'è un grande desiderio di coinvolgere il paziente. Tutto questo non è stato rappresentato, almeno per noi, nel documento attuale. Il linguaggio utilizzato nel documento presenta delle sfide, secondo noi, non soltanto secondo noi, ne pensiamo anche per altri. L'Associazione Europea per il studio dell'obesità afferma che il bias nei confronti dei pazienti con obesità è ben documentato e questi pregiudizi hanno un impatto notevole sulla erogazione dei servizi sanitari. Il linguaggio sicuramente deve essere mirato a risolvere queste sfide. Sicuramente le patologie croniche e le disabilità che sono rappresentate fanno sì che si adotti un linguaggio orientato alle persone e sicuramente tutta la comunità dei clinici e dei medici deve rispettare questo tipo di linguaggio come avviene nel campo dei pazienti diabetici, ma noi non lo vediamo attualmente nel documento del consenso. Sicuramente questo è un desiderio dell'Associazione di vedere che questo linguaggio venga emendato nelle prossime pubblicazioni, nel prossimo lavoro e c'è anche la percezione che ci sia un gruppo di persone non rappresentate, queste linee guida non stanno, si stanno focalizzando sulle raccomandazioni per i pazienti che hanno un peso anomalo, non formulano raccomandazioni per quei pazienti che sono più giovani, che sono all'inizio dell'esordio della malattia dell'ipedema, perché le esperienze che noi abbiamo come associazioni e che abbiamo membri delle associazioni che spesso hanno un parente più giovane all'interno della famiglia, giovani donne e tutte queste esperienze non sono rispecchiate nelle raccomandazioni del documento. L'altro punto che l'Associazione vorrebbe sollevare è che noi riconosciamo e apprezziamo la diversità e il supporto di tutti coloro che sono presenti qui oggi e tanti altri esponenti della comunità medica che stanno collaborando per promuovere la comprensione delle persone sull'ipedema. E quindi è mano a mano che passiamo a rassegna diversi titoli. L'obesità è qualcosa che come organizzazioni tutti quanti riconosciamo è sicuramente un'affezione che fa parte di molte persone affette da l'ipedema. Ci sono membri della nostra associazione che vogliono e hanno bisogno di un consiglio su come mantenere un peso sano, come gestire al meglio della loro condizione, insieme ad altri fattori che riguardano lo stile di vita. Quindi noi abbiamo sostenuto che un perdita di peso o aumento ponderale spesso influiscono sulle donne e sul loro riconoscimento di essere affette da l'ipedema. La loro necessità di avere consigli è molto importante e le associazioni che supportano le donne non possono negare queste necessità. Abbiamo dato tuttavia che nel documento, nel consenso, si parla della Linfology Clinic nel 2015 soltanto il 3% delle donne con il dipedema avevano un peso normale il 9% obese e il 88% con un BMI superiore al 30 e quindi obese. La loro corte di pazienti era ampiamente rappresentata secondo questi autori, ma questo non corrisponde alla nostra visione di avere soltanto una rappresentazione del 3% di donne con l'ipedema in peso normale e il 9% in sovrapposto. Quindi tutto questo è sicuramente una mission per molti di noi nella definizione di nuova linea guida. Richiediamo molto fortemente di riconsiderare tutti questi dati per formulare delle raccomandazioni sulla gestione del peso e sulle sane abitudini alimentari e sulla giusta qualità della vita per i pazienti con l'ipedema. La chirurgia bariatrica sono stati positivi da parte dell'esperienza di molte delle nostre associazioni. Le associazioni che si sono preoccupate di questo documento del consensus riguardavano proprio la liposizione e la chirurgia bariatrica rispetto a quali sono i criteri di selezione, quale dovrebbe essere la priorità. Nell'esperienza delle associazioni per rispondere a queste rapide domande di oggi, loro hanno preso in considerazione persone che avevano un esito positivo sulla bariatrica e che avevano, sì, avuto un calo ponderale, ma avevano bisogno comunque della liposizione per normalizzare la loro postura rimuovendo l'adipe sulle gambe che gli impediva di ambulare normalmente. Quindi la liposizione è stata riconosciuta da tutti i nostri intervistati come qualcosa che non era sicuramente una soluzione magica e che potesse in qualche modo risolvere completamente questo problema, ma molte associazioni hanno riferito comunque dei stadi molto positivi e un feedback molto positivo. Il consensus in questo dibattito si concentra molto di più sulle donne che alle esorde della patologia hanno un peso molto alto e non prendono in considerazione sufficientemente i vantaggi che molte donne hanno avuto dopo la riposizione, riduzione del dolore, aumentata mobilità, tutta una serie di vantaggi che invece i nostri membri ci riferiscono alle associazioni. L'interazione con la chirurgia bariatrica sicuramente è una preoccupazione come abbiamo già visto nel slide precedente. Per quanto riguarda la questione dell'edema e di pedema, molte associazioni non sono d'accordo sul fatto che non esista un edema e di pedema e nei commenti si è percepito che è difficile distinguere probabilmente l'edema dall'infedema nell'obesità in una serie di persone che si rivolgono alle cliniche degli autori che scrivono perché la maggior parte delle donne che sono state adattate per l'ipedema sono state diagnosticate in una fase tardiva. Ecco perché di nuovo enfatizziamo che siamo preoccupate sul fatto che devono essere invece incluse anche le giovani donne e disturbi linfatici anche questa è stata un'area di forte feedback che è prevenuto dagli intervistati nel nostro sondaggio che sono argomenti che non sono stati trattati nel consenso e non soltanto sono state riferenziate le anamnesi dei pazienti. In Stanley Rocks su appunto i livelli di PF4 aumentati ecco questo deve essere sicuramente incluso come è stato illustrato anche dalla precedente dell'attrice. Dobbiamo vedere tutti questi elementi considerati, alcune associazioni hanno anche sollevato delle domande rispetto all'ipomobilità e disturbi associate a tessuti connettivi e tutto questo come si esprime nell'ipedema. Quindi abbiamo visto assommariamente cosa accade nelle giovani effetti dell'ipedema. Sicuramente molte associazioni rispetto a questo consensus ritengono che non abbia rispecchiato sufficientemente il fatto che molti dei pazienti nelle cliniche e magari hanno perso la qualità della vita per vent'anni perché non erano consapevoli della loro patologia e non hanno ricevuto il giusto supporto e questo è qualcosa che è molto importante per noi e che sicuramente è stato un errore mancante perché il consensus si prende in considerazione soltanto le persone per quello che sono in quel momento senza considerare la situazione pergressa. Mi scusi se la interrompiamo ma non abbiamo più tempo per l'associazione quindi vorrei passare la parola, sicuramente avremo ulteriore tempo per condividere pensieri con tutte le associazioni quindi grazie molte per oggi. Vorrei dare un paio di minuti a Felicity della Lipidema Foundation per il suo statement. Felicity, grazie. Comunque il messaggio che emerge chiaramente in linea generale che non abbiamo una definizione comune, non sappiamo, parliamo di liquido intracellulare, extracellulare quando parliamo di edema, l'infedema, tutti questi termini. Noi come community dobbiamo unirci a decidere cosa significa quel termine. A quel punto possiamo iniziare a parlare dei punti di forza, dei punti di debolezza, dei diversi paper che sono stati pubblicati. Un limite della ricerca su Lipidema finora è che abbiamo un piccolo numero di partecipanti. Molti di questi paper si riferiscono a 10-20 donne con Lipidema, che non sono rappresentative di quel 10%, 5% più ampio di donne fatte da Lipidema. Quindi anche se noi abbiamo degli studi magnifici che sono stati condotti, abbiamo sempre questo handicap di avere un campione troppo ridotto di pazienti che partecipano. quindi c'è anche una carenza dal punto di vista diagnostico e questo fa sì che è ancora più difficile affermare che questi paper possono essere comparati reciprocamente. È anche difficile dire se determinati trattamenti funzionano per Lipidema, perché non abbiamo raggiunto quel determinato livello. questi paper che vengono pubblicati non necessariamente indicano i criteri che sono stati utilizzati. I paper del Regno Unito potrebbero avere un protocollo diagnostico diverso dai paper dell'Olanda, Italia, Germania, gli Stati Uniti. Quindi noi come community dobbiamo riunirci e discutere qual è la definizione e quale dovrebbe essere la definizione di Lipidema. Quindi assolutamente ne supportiamo un consenso internazionale come documento di consenso internazionale. ma a mio avviso c'è ancora tantissimo lavoro da fare per raggiungere questo traguardo e non credo che sarà un processo rapido nel quale basta semplicemente tenere una serie di conversazioni e decidere ok questo è Lipidema e questo non è Lipidema. non preoccuparti abbiamo un problema riusciremo sicuramente a parlare di tutti questi statement in un secondo momento in un secondo webinar quindi ora vi chiedo di fare una conclusione di 30 secondi della vostra parte in modo da avere abbastanza tempo per lasciare la parola ai fantastici clinici che si sono uniti a noi oggi sì per sintetizzare tutti noi dobbiamo unirci però dobbiamo farlo in maniera aperta ed onesta in come confronto quindi non Europa contro Stati Uniti non dottori contro chirurghi eccetera ci sono tanti stakeholder che devono essere coinvolti e dobbiamo avere un buon dialogo che sia colmo di rispetto per tutti e questo linguaggio utilizzato sicuramente non può essere più accettato sono d'accordo quindi grazie grazie mille Lipidema UK, Lipidema Foundation e a tutti i rappresentanti che si sono uniti a noi dall'Australia dalla Francia dai Paesi Bassi grazie grazie mille a tutti per essere qui con noi e diamo la parola a tutti i nostri clinici per la sessione possiamo discutere con i nostri ospiti vorrei invitare il professor Schmeller, il dottor Bruno, il dottor Schwarz lo vedo già e a Tom Wright di nuovo di unirsi a noi perché vorremmo chiedervi abbiamo visto un paio di immagini di foto parliamo delle differenze tra tessuto adiposo con l'obesità Lipidema voi siete tutti i chirurghi quali sono le differenze che trovate a livello microscopico nel grasso da Lipidema e abbiamo pazienti con entrambe le malattie quindi potete dirci qualcosa in più su questo aspetto dirci un po' quella che è la vostra esperienza riguardo e possiamo poi continuare la conversazione e ovviamente se le altre persone nel panel quindi anche se gli altri vogliono intervenire potete sicuramente alzare la mano dottor Schwarz vuole cominciare lei sì mi sentite sì la sentiamo grazie grazie mille per avermi invitato e comunque penso che la cosa importante sia quindi la liposuzione oppure intervento manuale rimuoviamo cose che non sono una cosa che abbiamo detto oggi oggi è che non dobbiamo quindi quello che stiamo rimuovendo non è l'adipe quindi speriamo di poter curare quello che le persone hanno e quindi non fare una confusione con l'obesità comunque è una cosa che vi posso dire è che sicuramente è un adipe diverso rispetto a quello che vediamo non è sicuramente uguale a quello che vediamo di solito un'altra cosa interessante di alcune delle slide che avete mostrato i dottori Ebst e io abbiamo analizzato internalmente le persone in vivo quindi durante la chirurgia abbiamo aperto abbiamo cercato di vedere come il tessuto connettivo come il grasso e soprattutto abbiamo analizzato tutti questi aspetti e abbiamo capito molto di più abbiamo capito perché le persone hanno dolore che cosa succede perché sentono le gambe pesanti perché quindi grazie a questo capiamo molto di più e queste discussioni sicuramente sono migliori per per tutti non penso che che abbiamo ancora capito completamente quindi sono molto felice che ne siamo tutti parlanti sono felice di rispondere alle vostre domande se mi lasciate se mi lasciate due ore state tranquilli che parlerò per due ore quindi mi fermo però se avete domande non esitate a a farmi a farmi domande dottor bruni ha qualcosa da aggiungere sì grazie per avermi invitato io non lo sento bene purtroppo sì io vi vedo la mia camera è accesa noi non la vediamo però forse qualcun altro riesce a vederla comunque prego vorrei parlare della località la localizzazione dell'ipedema nell'addome che è una questione importante vorrei dire che ho fatto che mi occupo di questo da 15 anni e tramite la procedura che ogni faccio soprattutto dopo la chirurgia bariatrica ho visto che il tessuto addominale è diverso a livello estetico dopo la chirurgia bariatrica scusate ma lo sento malissimo il paziente ha molto tessuto fibrotico questo tessuto fibrotico c'è molta quantità di questo tessuto anche tramite dissezione chirurgica possiamo palpare questi noduli e possiamo vedere grande quantità di fibrosi che è molto diversa sia dopo l'intervento chirurgico che bariatrico che estetico quindi è molto importante considerare la localizzazione addominale non penso che l'ipedema possa essere localizzato solo nell'addome perché le persone lamentano dolore e il tessuto è molto diverso rispetto è molto diverso anche rispetto al periodo post chirurgia bariatrica quindi penso che l'ipedema si possa localizzare soprattutto al di sotto dell'ombelico quindi anche nell'addome grazie 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 mille grazie mille dottor schmeller non so se con noi non so se con noi mi vedete mi vedete mi sentite sì la vediamo la sentiamo grazie per avermi invitato è un piacere essere con voi grazie è un onore averla con noi ci può dire la sua opinione sul sull'adipe da l'ipedema abbiamo studi dopo la rimozione dell'adipe alla scomparsa del dolore del giorno successivo quindi si tratta di un cambiamento drammatico in quello che sente il paziente si sente più libero si sente più mobile si sente più felice ci chiediamo che cosa causi tutto questo perché dovrebbe esserci una sorta di fattore all'interno dell'adipe che deve essere rimosso in modo tale che il paziente sente il cambiamento ma non ho studi a riguardo è quello che posso dire per quanto riguarda l'adipe ok il dottor right non so se il dottor right ci vuole dire la sua opinione so che già ha parlato e comunque anche il dottor franbeck di un'altra sessione perché abbiamo con noi chirurghi non so se voglio unirsi alla conversazione o fare altre domande se non ha domande dottor franbeck dottor bright non è con noi allora può fare domande al prossimo panel abbiamo il secondo il secondo blocco di discussione che riguarda l'edema e il melipedema abbiamo sentito molto si è parlato molto insomma di questo aspetto prove di questo nella presentazione del dottor e anche del dottor chelini quindi quindi l'edema che ondete nei vostri pazienti con melipedema e l'edema nei pazienti obesi è diverso come edema posso intervenire io sì sì prego dottor schweller beh la prima domanda è se c'è edema nell'ipedema sono d'accordo con quello che ha detto karen herbst cioè se c'è l'edema per molti molti decenni il ipedema è stato trattato con compressione manuale linfatica ed è stato fatto con tanto successo e l'effetto di questa compressione linfatica manuale di drenaggio è stato la scomparsa del dolore e quindi questo non può essere ignorato e sicuramente in diverse cliniche linfatiche hanno rimosso grandi quantità di fluido e il paziente sicuramente è migliorato tantissimo grazie a questo quindi penso che l'ipedema nel l'ipedema ci sia sempre una sorta di edema dottore grazie per essere con noi può aggiungere qualcosa ci può vuole aggiungere qualcosa nella mia esperienza una parte significativa che contribuisce all'edema nei pazienti l'insufficienza venosa l'abbiamo menzionato prima vedo all'inizio non è l'infatica ma ma è un edema diverso e la combinazione di linfatica e l'ipedema spesso è un segno di una malattia in stadio avanzato ma comunque è una alla mente alla comune in germania e l'infodrenaggio può essere prescritto per pazienti con linfedema e l'ipedema non è elencato nelle indicazioni per la prescrizione questo è un problema per i pazienti con l'ipedema che potrebbero invece avere un miglioramento soprattutto nelle gambe pesanti con questo linfodrenaggio compressione manuale quindi secondo lei è un qualcosa che dovrebbe essere aggiunto all'attuale trattamento sì sì sicuramente e quindi posso chiedere forse a dottoressa il cordero di dirci qualcosa riguardo e abbiamo e vorrei sentire anche qualcosa in più sul coinvolgimento venoso perché non parliamo soltanto del sistema linfatico ma con il dottor lucia mazzolai online dottor forner cordero se volete parlarci della vostra esperienza a riguardo avete dei pazienti con edema e con problemi venosi eccola salve dottoressa e quindi qual è la sua esperienza con questi pazienti raccomanda mld quindi linfodrenaggio manuale oppure terapia di decongestione secondo lei può migliorare la condizione di questi pazienti sicuramente sì sono d'accordo con il dottor volina e con molti dei relatori è presente una sorta di edema un tipo di edema nei pazienti con lipedema non so di che tipo di edema si tratti probabilmente un edema venoso è associato al lipedema però è un qualcosa che deve essere ulteriormente indagato perché non sappiamo nulla di questo aspetto la clinica è molto diversa nei vari paesi non prescrivo il linfodrenaggio manuale nel mio ospedale soprattutto perché ho molti pazienti con linfedema ho una lista d'attesa molto importante e molti di loro migliorano tantissimo soltanto con delle calze oppure con compressione quindi non hanno bisogno di linfodrenaggio manuale quindi non sono sicura che sia effettivamente necessario per questi pazienti c'è bisogno di più studi è importante per dimostrare che sia importante sicuramente un trattamento che può aiutare però secondo me c'è bisogno di maggiori studi quindi aspetto dottor maria gestai che che entrerà con noi e nel frattempo le faccio un'altra domanda sulla terapia non solo l'infodrenaggio manuale ma anche sui bendaggi e soprattutto prima e dopo la liposuzione ci può dare la sua opinione su questo quindi tutti e tre è una domanda che rivolgo a voi tre insomma che cosa ne pensate allora noi facciamo un vendaggio a compressione che dovrebbe durare almeno 4 settimane dopo l'intervento e è possibile cambiare il vendaggio ogni giorno abbiamo delle calze poi nelle settimane successive e alla fine vediamo se ancora necessaria la compressione quindi dopo quattro settimane le nostre pazienti tolgono le calze e quindi vediamo come va il gonfiore se c'è ancora del gonfiore oppure se è sparito e sulla base della quantità di gonfiore quindi si continua con le calze per il prossimo mese o le prossime settimane quindi capiscono loro se le calze sono necessarie per un periodo più lungo oppure no quindi visto che la maggior parte dei pazienti vengono da noi per un follow up e tante persone devono indossare le calze dopo l'intervento e poche persone dopo poco tempo riescono invece a non utilizzarle non dobbiamo dimenticare quei pazienti che non tollerano la compressione oppure l'infrodrenaggio manuale quindi c'è una subpopolazione di pazienti con lipedema che dall'inizio hanno bisogno di un altro tipo di trattamento un trattamento conservativo questa è la mia opinione sì però io parlavo del post chirurgia il post intervento grazie sì sì avevo capito e ci può spiegare dottor mollina che tipo di che tipo di trattamento parla quindi ad esempio lei dice che non si può prescrivere la compressione perché c'è troppo dolore per questi pazienti non possono tollerare il dolore o per ragioni di mobilità non riescono a mettere insomma queste calze quindi una questione di dolore insomma qual è la soluzione in questi casi in cui la compressione non è possibile purtroppo non abbiamo una terapia efficace e farmacologica quindi dobbiamo discutere la liposuzione non vedo altre possibilità per aiutare questi pazienti quindi grazie e grazie mille per ora ho anche un'altra domanda per voi però quando parliamo di visto che stiamo parlando di dolore possiamo parlare con la travantovani e quindi vediamo se riesce ad accendere microfono e telecamera e dottor alberto onorato visto che parliamo di compressione e di vendaggi eccetera e dottor mantovani forse ci può dire qualcosa a riguardo vuole dirci qualcosa riguardo se nella nostra pratica clinica utilizziamo spesso i vendaggi e anche per l'edema e per il dolore molto spesso dopo i primi vendaggi quindi vediamo se non c'è più dolore se il paziente tollera questo tipo di compressione i vendaggi possono essere un buon trattamento e a volte sono associati anche a linfodrenaggio ma non a tutti i casi linfodrenaggio va bene e quindi ci sta dicendo che c'è un miglioramento nel dolore dopo il trattamento e non lo so vorrei chiedere a tutti i dottori presenti secondo voi la riduzione del dolore è quindi per dare un'informazione al nostro pubblico per capire cosa succedere quindi mettere questi vendaggi a compressione aiuta a ridurre il dolore o qualcosa che semplicemente è una situazione psicologica oppure funziona effettivamente sulla infiammazione e sulla riduzione dell'edema Dottor Schmeller? Beh è una domanda molto difficile perché non è chiaro in realtà per questo l'ho fatta ci sono degli studi che riguardano il dolore nell'ipedema e penso che sia stato impossibile specificare che cosa causa il problema non sappiamo se effettivamente ci sia un'infiammazione oppure se ci sia una ipostia non abbiamo assolutamente idea, non lo sappiamo e quindi è un po' difficile rispondere a questa domanda così importante Dottor Wallina poi dopo Dottor Wallina il Dottor Onorato ci può parlare della sua esperienza della sua esperienza nel controllo del dolore nei pazienti Dottor Wallina Sì, allora per quanto riguarda il dolore allora sicuramente è un fenomeno importante che causa sicuramente un danno alla qualità della vita di questi pazienti quindi questo è molto importante da capire come ha detto il professor Schmeller la nostra comprensione è abbastanza limitata al riguardo ho discusso con il Dottor Grudendorf questo nuovo concetto di aviolin 1 che è una molecola importante che evolve nella regolamentazione degli adipociti ma anche nella percezione del dolore perché è abbondante nelle cellule e quindi bisogna cercare nuove molecole nuovi pathway di produzione e percezione del dolore per affrontare questa questione importante nei pazienti con l'ipedema per la pratica clinica Dottor Onorato ci può raccontare la sua esperienza? Sappiamo che il dolore nociceptico e il dolore neuropatico quindi vanno presi in considerazione quindi probabilmente dobbiamo dedicare attenzione a tutti questi aspetti del problema nella mia esperienza nella mia formazione circa 20 anni fa su questo ambito ho avuto questa informazione che nel l'ipedema quando c'è dolore è il momento di iniziare il linfodrenaggio questo è quello che io ho fatto per tanti anni venivo da una formazione tedesca quindi come già detto il linfodrenaggio e i vendaggi erano la terapia d'eccellenza e ho utilizzato questa terapia poi soprattutto dopo linee guida olandesi e anche tedesche sono passato ad una prospettiva differente quindi ho dedicato più attenzione anche gli intumenti ho avuto queste informazioni da giovanissimi con situazioni di pede ma senso obesità e sono stato piuttosto colpito dal modo in cui mi dicevano che la compressione gli dava dei risultati molto positivi anche se devo dire che in realtà non era l'indumento sempre idoneo perché dipende dallo stadio e quindi sicuramente va capito quando si tratta di avere la giusta indicazione ma capire anche quali sono le esigenze dei pazienti quindi non darei una compressione troppo pesante perché probabilmente sarebbe superiore lo stress rispetto ai risultati a livello di dolore ci sarebbe una ipersensibilizzazione al dolore a mio avviso quindi sto studiando il problema del dolore anche per quanto concerne un modo alternativo per controllare non soltanto i questionari non soltanto l'esperienza soggettiva del dolore che è molto importante ma anche dei dati l'esperienza oggettiva o comunque misurazione oggettiva abbiamo fatto appunto questi esami con dei tecnici che ci indicheranno appunto i risultati il tempo corre quindi se vogliamo invitare anche chi ci ascolta magari le persone che ci ascoltano nei suoi congressi magari possiamo creare un ulteriore evento con i partecipanti ai vostri congressi anche il dottore Gabriele Febre che ci ha chiesto di unirsi quindi abbiamo tantissimi esperti rinomati dell'Ipedema a livello mondiale che vogliono appunto partecipare quindi mi dispiacerebbe davvero se non ci fosse tempo per loro ma sicuramente verranno verrete tutti rinvitati al nostro prossimo evento subito dopo Natale quindi grazie dottor Onorato prego si mutuo rapidamente questa considerazione la auto formazione dei pazienti ma anche la formazione dei professionisti beh sicuramente per la linfologia io chiaramente ho la Federschule la Jean Paul Belgrado questa scuola di formazione per problemi a livello linfatico ma l'Ipedema beh non ho avuto delle fonti non solo dei paper ma anche degli ultimi cinque anni quindi penso che dal punto di vista dei pazienti per la loro prospettiva sarebbe molto importante avere dei professionisti adeguatamente formati e anche avere la capacità di lavorare in team psicologi medici interni di medicina interna e infine invito tutti prima di concludere a unirsi a una conferenza virtuale che si terrà doveva venersi lo scorso maggio ma per via del covid abbiamo avuto dei problemi quindi volevamo appunto riorganizzarla per marzo del prossimo anno in presenza ma dal momento che è impossibile sarà virtuale una sessione virtuale quindi vi invito emergeranno delle prossime informazioni nelle prossime settimane e quindi possiamo sicuramente andare avanti su questo fronte grazie anche dottor Giustati vorrei invitarvi tutti a questo congresso imminente ma sul piano tecnico dottor ci sarà un problema con la telecamera nel microfono comunque per informazioni sull'evento vi invito a visitare il nostro sito web abbiamo proprio un'area dedicata che riguarda tutti gli eventi sulle pedie anche quelli appunto organizzati da tutti i gestari sono visualizzabili su questo sito e anche il The Kitchen Symposium questo Symposium che è stato davvero un congresso strepitoso e abbiamo la Flanky e quindi passiamo ai prossimi panelist da Fromback una serie di domande su una gestione sana dei pazienti con le pedie ma quindi abitudini nutrizionali sane che sono sicuramente un argomento molto controverso perché ci sarà sempre detto di mangiare in modo sano ma tanti di noi già lo fanno tanti delle pazienti italiani che sicuramente conoscono la dieta mediterranea sicuramente possiamo mangiare sano ma comunque non ci sono risultati nel trattativo di avere un calo ponderato cosa significa mangiare sano per questi pazienti con l'ipedema scusate c'è un problema al collegamento scusate Alessandra non ti sentiamo ci sono dei problemi di collegamenti problemi di linee quindi Iker Fleinbach questi panelisti possono raggiungerci virtualmente per prendere la parola Leslie come si vive in maniera sana con l'ipedema perché riusciamo ad avere questa perdita di peso come si può fare sì sicuramente anche la la discussione sul dolore è stata molto interessante che appunto rappresenta una riduzione immediata del dolore dopo la liposizione è interessante che in uno sudopilota norvegese abbiamo visto che nel due settimane dopo avete adottato una dieta chetogenica rimuovere i carboidrati e mangiare i grassi sani tutto questo sembra che consente di avere una riduzione immediata a volte proprio una risoluzione del dolore ancora prima del calo ponderare quindi ci sono una serie di pattern che possono avere un impatto sulla di pedema associati anche all'alimentazione come quello della dieta chetogenica quindi sicuramente questa è un'ipotesi qualcosa che dovrebbe essere esplorata presentata non diciamo che questa è la soluzione migliore è la soluzione giusta e che sia una condizione sicuramente vogliamo studiarlo più nel dettaglio scoprire ma sul piano anedotico vediamo che moltissime donne con lipedema non soltanto hanno un effetto sulla calo ponderale ma in un secondo momento immediatamente una riduzione del dolore quindi andiamo ad analizzare esplorare questa nuova frontiera sì il dolore ne ripede ma non è soltanto nella nostra mente è reale voi il vostro gruppo il vostro lavoro con Catherine Catherine sì sicuramente il vostro lavoro è davvero fantastico nel discutere queste questioni specifiche ne ripede ma dottoressa Pollard voleva aggiungere qualcosa sì volevo semplicemente aggiungere i commenti di Leslie penso che abbiamo davvero tantissimo ancora da studiare per risolvere queste sfide per essere sicuri che quando noi andiamo ad analizzare gli studi non abbiamo dei fattori di confusione che creano una ipersemplificazione quindi sono stata colpita dai trattamenti dalle tecniche manuali che possono essere una componente importante ma non soltanto queste per ridurre il dolore e in particolare alcuni dei pazienti dello stadio iniziale e sicuramente questi studi sono in via di pubblicazione possono dare informazioni entusiasmanti come clinica sicuramente sono rimasta molto sorpresa dall'impatto che le tecniche manuali possano apportare nella riduzione del dolore e consentire un certo livello di compressione se necessaria per i pazienti nelle fasi più iniziali con alcuni tipi di edema ortostatico alla fine della giornata semplicemente attività estreme le quali non sono abituati come camminare tutto il giorno a New York è stato uno degli esempi sperimentali quindi sono davvero entusiasta di continuare a imparare da chi e da altri esponenti su come tutto questo può avere un impatto sulla qualità della vita e sulla gestione del dolore sì anche Herbst ha espresso alcune parole sulla terapia basata sulle vibrazioni perché tutti quanti abbiamo questa possibilità di praticarla in casa quindi è molto importante ricordarci che siamo nella Covid-19 quindi sicuramente poter fare queste sperimentazioni a casa in questo momento può essere di aiuto avere anche dei suggerimenti dai clinici per capire che cosa è importante per noi cosa sanno mangiare determinate cose tenere delle abitudini sane di vita sana dobbiamo muoverci dobbiamo praticare sport fitness è importante sì ma nell'epoca della pandemia sicuramente questi strumenti basati sulle vibrazioni possono essere importanti per la gestione del dolore per praticare il fitness a casa in questo periodo così difficile di pandemia sì volevo collegarmi a questo dibattito sui medici che ha anche preceduto il nostro panel quindi penso che come clinici dobbiamo iniziare anche a pensare un po' fuori dagli schemi abbiamo parlato di MLD sicuramente utilità delle tecniche manuali perché alcuni degli studi che sono in fase di pubblicazione Herbster e il suo studio ha evidenziato diversi tipi di tecniche più pesanti non quella di messaggio leggero tradizionale quindi abbiamo bisogno a mio avviso di parlare di MLD ma anche di espandere questo ambito a di fuori della MLD tradizionale e includere anche queste ulteriori possibilità fantastico Laslyn volevi parlare della dieta chetogenica solo che è un ambito piuttosto ampio ma giusto qualche parola perché è chiaro che so che molti vogliono intervenire ma ricordiamoci che oggi stiamo dando soltanto degli spunti la prossima volta avremo degli approfondimenti per fercualizzarci su alcuni aspetti specifici quindi possiamo farlo direi semplicemente che il nostro gruppo dell'epidema support o project abbiamo scritto una lettera all'editor per rispondere ai cinque articoli del dottor che non è stata pubblicata era piuttosto in linea devo dire con il gruppo di il dottor Herbst quindi le questioni psicosociali in particolare sono perfettamente d'accordo con quello che è stato affermato nella lettera di Herbst e quindi penso che dobbiamo ringraziare l'autore per aver fatto riunire così tante persone perché alla fine questo lead author ha fatto sì che noi abbiamo tenuto questa discussione e quindi il problema principale con quello che ha fatto è che in realtà non era un processo di consensus quindi a volte ci sono alcuni elementi di forte sospetto rispetto ai concetti che il dottor Birch ha promosso facciano parte di un consenso non c'è non c'è nulla su cui in realtà scende a compromessi non vedo che in questo documento si prenda in considerazione questa possibilità come hanno detto anche i precedenti relatori non era una rappresentazione veritiera di ricerca nella letteratura collaborazione nel tentativo di identificare le best practice quindi credo sono davvero entusiasta di sentire cosa sta facendo il gruppo di Karen i standard of care statunitense per contribuire a questa conoscenza e per davvero confluire in un consenso internazionale quindi grazie Valeria per aver riunito questo gruppo mi piace sempre parlare della dieta dell'alimentazione di ripetere ma credo che sia soltanto un piccolo tassello di un mosaico più ampio che stiamo cercando di raggiungere avere questo quadro globale rispetto a cosa possiamo migliorare per servire le esigenze della nostra popolazione di pazienti sì volevo contribuire ai precedenti relatore che ha parlato delle tecniche di drenaggio manuale con gli studi ecografici abbiamo mostrato che il massaggio profondo o il drenaggio manuale è molto più benefico rispetto a quello leggero e quindi quando andiamo a vedere la patologia chirurgica abbiamo tantissimo tessuto fibrotico non soltanto piccoli lobuli adiposi ma un tessuto che deve essere decomposto fibrotico quindi con il drenaggio manuale abbiamo una pressione più profonda sul tessuto quindi raggiungiamo questo obiettivo gli studi ecografici mostrano che questo è molto più di effetto quindi la chiave è iniziare il trattamento nella fase più possibile precoce per far sì che nella fase precoce del lipedema i pazienti possano avere questo vantaggio quindi bambini studi sui bambini ecco noi non dobbiamo fare un follow up dei pazienti negli stadi troppo avanzati va bene non ho più tempo grazie Karen grazie grazie mille siamo in fase addirittura d'arrivo di conclusione grazie Leslie saluta Catherine Karen Herbst cosa dire grazie beh il supporto per questo webinar è stato incredibile io sono davvero entusiasta sono davvero all'apice dell'entusiasmo devo dire che a causa di questi bias nel documento di consenso ci siamo riuniti come gruppo e ora siamo più forti e abbiamo bisogno di unirci di essere coesi so che sarà difficile fronteggiare questa sfida dovremo probabilmente arrivare a un compromesso ma a mio avviso dobbiamo unire i nostri sforzi per un documento di consenso veramente internazionale sulle aree sulle quali noi siamo d'accordo e sulle quali siamo in disaccordo che richiedono più ricerca vorrei davvero rinnovare il mio ringraziamento a tutti gli organizzatori Valeria e la sua associazione per davvero aver organizzato un webinar così incredibile per tutti gli speaker che hanno dedicato la domenica per partecipare a questo webinar non vedo l'ora di avere un'ulteriore interazione a altri webinar dottor Fromm purtroppo non ha potuto prendere la parola anche altri esponenti mazzolai doveva partecipare non è stato in grado e il professor Mufat anche quindi speriamo che la sua salute migliori abbiamo davvero tantissime domande che provengono dai social da youtube ma sono le 20 siamo in chiusura non avremo tempo di rispondere a tutte queste domande ad avere un vero e proprio Q&A ma raccoglieremo queste domande e vi daremo delle risposte in un secondo momento quindi tutti quanti i panelisti i partecipanti e tutti coloro che hanno ascoltato a Roma possono da casa scusate possono intervenire con le loro domande e continueremo questo dibattito perché vogliamo davvero raggiungere un consenso sulle pede ma perché pensiamo che non sia possibile raggiungere un consenso se non in questo modo dottor Michelini voleva aggiungere qualcosa di saluti sì vorrei ringraziare Valeria e l'Onlus e congratularmi con lei con Karen per il suo il suo staff fantastico che hanno avuto un ruolo importante per la nostra ricerca e anche tutti i colleghi europei italiani europei è stato molto interessante partecipare siamo in un momento in cui dobbiamo collaborare nel prossimo mese per realizzare un consenso basato su evidenza scientifica il prima possibile questo è l'obiettivo che veda la partecipazione congiunta di professionisti tutti voi tutti noi europei anche sicuramente ci sarà questa collaborazione importante per i pazienti importante anche per noi che operiamo in prima linea sia anche per l'Australia abbiamo anche l'associazione dell'Australia che auspica un consenso veramente internazionale sì in questo momento non era possibile avere il collegamento quindi li salutiamo i nostri amici partner australiani i clinici i medici che probabilmente ci stanno guardando nella registrazione quindi speriamo che in queste due ore siamo riusciti a esprimere la voce di tutte le persone che volevano partecipare forse no c'è davvero tantissimo altro che avremmo dovuto affermare ma pensiamo che sia un primo passo molto valido quindi grazie a tutti mi dispiace se non abbiamo avuto tantissimo tempo per darvi spazio e sufficienza per prendere la parola e per discutere tutti gli aspetti che sono emersi ma sicuramente ci saranno altre occasioni quindi grazie mille stiamo chiudendo grazie ai dottori Michlini Herbst Alessandra grazie a tutti da parte di di Pedimentalia siete davvero tutti quanti fantastici grazie grazie ciao